Il piazzale Punta dell'Inferno a Santa Maria di Castellabate è stato travolto da onde di musica, la nuova rassegna dedicata alle band giovanili locali, sostenuta dall'assessorato alle politiche giovanili del comune di Castellabate. Una serata all'insegna della musica e del buon pescato. Una vera e propria festa del mare. Il bilancio di questa serata è stata una serata davvero molto piacevole. Il piazzale di Punta dell'Inferno si è prestato molto bene all'evento. Ringrazio Caterina Infante che è stata promotrice di questa iniziativa insieme a tante persone che vivono in questa zona che si sono addirittura autotassati al fine di rendere questa manifestazione il più piacevole possibile. Io ho colto subito la richiesta di patrocinare la serata e chiaramente con il mio assessorato alle politiche giovanili non potevamo fare altrimenti. Quindi sono felice di aver contribuito a realizzare una vera e propria vetrina per le band emergenti del nostro territorio. Mi auguro che questa manifestazione diventi un punto di riferimento per tutte le band emergenti non solo di Castellabate ma anche, perché no, di tutte le località che avranno il piacere di esibirsi in questa spettacolare location.